Altrimenti ci arrabbiamo a un film storico della comicità italiana con Bud Spencer, Terence Hill è uscito nel 1974 e... E non è questo il film di cui devo parlare? Hanno fatto un nuovo film nel 2022? Cioè, ma che davvero? Ci sono due attori che scimmiottano Bud e Terence? C'è anche Christian De Sica! Dicono pure le parolacce! No, cioè, ma quella adesso le dico io, dai! Cioè, state scherzando, è il primo aprile! Non esiste un Altrimenti ci arrabbiamo del 2022! Cioè, sarebbe una cagata pazzesca, una presa per il culo astronomica, se poi lo facessero pure come omaggio alla comicità italiana anni Ottanta, cioè, quasi da menare le mani, davvero! Cioè, comunque, state scherzando! Dai, non esiste questo film! Come non esistono The Restor Creators The Past, Indiana Jones 4 e 5, una serie su Fondazione di Asimov, eppure una su Signore degli Anelli! Cioè, dai, smettetela e torniamo alle cose serie! Allora, dicevamo... Allora, dicevamo... Allora, dicevamo... Grazie a tutti.